Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Mariano. Vi siete mai chiesti come fanno le cuffie a cancellare il rumore che ci circonda? In questo video scopriremo insieme la fisica delle onde acustiche e la tecnologia dietro la cancellazione del rumore attiva e passiva. Preparatevi quindi per un viaggio che parte da un semplice suono puro e arriva fino all'onda antirumore che ci regala il silenzio. Dai, spero davvero che questo video ti piaccia perché cercherò di spiegarvi come fanno le cuffie che portiamo ogni giorno o che portano i nostri amici a cancellare il rumore, cosa significa acquistare un paio di cuffie a cancellazione attiva del rumore, un video così, diciamo, che può aiutare tantissimi anche mentre state, una volta dicevo, mentre state con la vostra ragazza che ha delle belle Airpods e voi spiegate il perché le Airpods non fanno sentire le cose che accadono così all'esterno. Dobbiamo partire da un'onda, un'onda sonora è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico, tipicamente l'aria, generando delle vibrazioni di pressione che il nostro orecchio poi percepisce. Quindi abbiamo ciò che viene prodotto, poi un mezzo attraverso cui le onde si propagano e il nostro ricevitore, che nel nostro caso sono le nostre orecchie. Quando queste variazioni sono regolari e monotone nel tempo, otteniamo un suono puro. Ad esempio, non so, quando qualcuno vi fa sentire il diapason, quello è un La a 440 Hz. E te lo faccio vedere. Questa è un'onda pura, un La a 440 Hz. Vuol dire che quest'onda si ripete esattamente sulla stessa forma 440 volte al secondo. Ed eccola qui. Vedete quanto è carina? La sinusoide, questa si chiama sinusoide, che è un perfetto esempio di suono puro. In termini fisici, il suo spettro nel dominio del tempo, eccolo qui, ha un picco quando siamo a 440 Hz netti. Ora dobbiamo capire, invece, questo è un suono, che cos'è il rumore. Beh, qui, come spesso accade nella fisica, c'è un problema di linguaggio. Perché un conto è rumore in italiano, nel linguaggio di tutti i giorni, incontro è un rumore, invece, in fisica. Il rumore nasce da una combinazione di molteplici frequenze. Quella che abbiamo visto prima la mischi in tantissime altre frequenze. Perché non senti sempre un La di un diapason, no? E anche il La del diapason, in realtà, a seconda di dove è messo, ad esempio sulla chitarra, ci sono tantissime armoniche dietro. Ma un rumore è spesso percepito come un suono fastidioso, oppure non desiderato. In fisica, però, non esiste un rumore sbagliato. È semplicemente un segnale che contiene molte frequenze insieme, distribuite in modo regolare nel tempo. Magari te lo potrai pure far ascoltare, oppure ti lascio qui un link in descrizione per ascoltarti il rumore bianco, che spesso viene utilizzato anche per dormire, no? Alcuni mettono queste white noise, si chiamano, proprio anche perché è un rumore, come dire, uniforme. Te lo faccio vedere, però. Non te lo faccio sentire, ma te lo faccio vedere. Questo è un rumore bianco. Il rumore bianco è un insieme caotico di oscillazioni da un punto di vista spettrale, e quindi di spettro, diciamo di spettro delle varie frequenze, contiene tutte le frequenze in maniera abbastanza uniforme. Mentre un suono puro avrebbe un picco definito da qualche parte. Invece un rumore bianco, ad esempio, non ha un picco definito come vedevamo quello che abbiamo visto prima. E quindi adesso cominciamo a parlare di cancellazione del rumore. La cancellazione del rumore può essere attiva o passiva. E dobbiamo capire molto bene questa cosa. Cioè, può essere o un semplice isolamento fisico, e quindi la cancellazione passiva, materiale, ad esempio, di varie forme, imbottiture che ostacolano il passaggio delle onde sonore, e quindi immaginiamo le cuffie, le cuffie queste qui e queste cuffie qui, io me le metto e ad un certo punto sento tutto molto vattato. Non è una cancellazione attiva, ma passiva, perché queste sono cuffie fatte per isolare da tutto ciò che accade là fuori. E riduce, quindi, così, riduce, diciamo, l'ampiezza di queste onde. Andiamolo a vedere. Questa, ad esempio, è una cancellazione passiva. Che cosa mostra questo? Questo è il segnale originale. Una volta che mi metto le cuffie, vedete come, ad esempio, è attenuato del 50%. Attenuato del 50%. Infatti, vedete come l'oscillazione, se stava prima ad 1, adesso è a 0,50. Quindi, questo vuol dire che se mi metto delle cuffie che hanno un'attenuazione passiva del 50%, riescono ad attenuare un segnale del 50%. Ma questa è una cancellazione passiva. Ecco, una cosa del genere. Mentre il caso reale, nella cancellazione, questo è di un'onda pura. Nel caso reale, invece, te lo faccio vedere qui, il caso reale, ancora, vedi, cancellazione passiva del rumore, vedi come il rumore originale è quello in giallo, e invece, quando attemo, vedete come l'onda è la stessa tipologia di onda, ma più bassa. Quindi, se avevo un picco qui, ad esempio, adesso ce l'ho qui. Quindi, è la stessa tipologia, ma più bassa. Quindi, ricevo una cancellazione passiva del rumore, quindi tutte le frequenze vengono attenuate. Ecco qui. E adesso, invece, andiamo a capire che cosa vuol dire la cancellazione attiva. Per andare oltre la semplice attenuazione, serve un approccio che neutralizzi le onde sonore, quindi un'interferenza distruttiva. Ora orientiamo nei dettaglissimi. Però, se si generano due onde identiche, in modulo, ma opposte in fase, quando si sovrappongono, si annullano a vicenda. è la base dell'Active Noise Cancellation, in inglese ANC. Eccolo, vedete? Questo è quello che succede. Ad esempio, se ho un'onda fatta così, la cancellazione attiva genera un'onda, potremmo dire, adesso passami il termine, uguale e contraria, vedi? Uguale in modulo e contraria. Vedi, quando questa è a 1, questa sta a meno 1, quando questa sta a meno 1, questa sta a 1, e tutte le fasi intermedie sono sfasate, sono invertite, e quindi, vedete, quando io poi sommo queste due, guardate come ho, praticamente, l'onda risultante, che è 0, potremmo dire. E non sarà mai 0, è qualcosa vicino a 0. Ecco, questa è la cancellazione attiva del rumore. Quindi le cuffie ANC usano microfoni per captare il rumore ambientale. Un processore calcola in tempo reale un'onda inversa, come quella che abbiamo visto, la invia agli altoparlanti, generano interferenza distruttiva, e quindi, vedete come, possiamo avere una cosa molto interessante. Andiamola a vedere, ad esempio, sul rumore bianco, te lo faccio vedere sul rumore, scusa, te lo faccio vedere sul rumore bianco, vedi, questo è il rumore originale, guardate questo picco qui, se lo vado a vedere in giù, vedete come ho il picco in giù? se ho questo picco basso, ho questo picco in alto, e quindi, diciamo, rumore originale, rumore invertito, passami il termine, e ho la somma, quindi una cancellazione attiva del rumore. Non sarà mai 0, ma qualcosa lì vicino. Insomma, vedete come, vediamo se ho altre figure da mostrarti, ah sì, ce le ho, eccolo, ce l'ho questa qui, questo ce l'abbiamo invece su due assi, vedete, così lo capiamo ancora meglio, vedete come qui, questo è il rumore originale, questo è il rumore invertito, e così via, per ogni frequenza. Facendo in questo modo, possiamo avere una cancellazione del rumore molto molto buono. Però, vediamo come l'Active Noise Cancellation, ne esistono diverse tipologie, non ne abbiamo soltanto una, abbiamo almeno tre tipi di tecnologie, la feed forward, quindi microfoni esterni che captano il rumore prima che entri nell'orecchio, feedback, microfoni interni che monitorano il suono già presente nel padiglione, oppure ibrido, che combina entrambe gli approcci. Ecco, dobbiamo immaginare come, ve lo ridico un attimo, i microfoni esterni misurano il rumore, ad esempio una signora che ci sta parlando, misurano quel rumore lì, lo trasmettono a un processore, deve essere velocissimo, calcola l'antirumore che corregge le frequenze. È molto efficace sulle frequenze medio-alte, questa parte qui, ma non corregge eventuali perdite all'interno del padiglione. Poi abbiamo il feedback, di cui abbiamo già parlato, con microfoni interni, il suono presente nel padiglione dell'auricolare, dove già abbiamo delle risonanze all'interno, inviano un feedback al processore e correggono eventuali perdite e riflessioni interni. Ottimo per le basse frequenze, ma richiede un'allaborazione estremamente rapida per evitare l'instabilità. Le cuffie di alta fascia, come ad esempio, facciamo nomi, AirPod Pro, poi magari ti lascio i link in descrizione, alcune Sony, oppure le Bose, insomma tante tipologie, utilizzano entrambi i metodi, quindi si chiama quello ibrido, dove mettono sia il feed forward che il feedback. Le mettono insieme queste due tecnologie e abbiamo il massimo che possiamo ottenere dalle cuffie. Nel mondo reale, adesso andiamo all'ultima parte, la latenza dei microfoni e del processore non è zero, che potete capire, cioè ci vuole sempre un tempo di elaborazione. Se l'antirumore arriva anche pochi millisecondi dopo il rumore, la cancellazione perde efficacia, perché immaginiamo che le onde sono sfasate, quindi un errore di fase non corretto può addirittura amplificare qualche componente. E quindi, insomma, vediamo come debbono essere molto, molto precise. Può funzionare molto bene per le basse frequenze, perché la lunghezza d'onda delle basse frequenze è molto alta, è molto grande, però, ad esempio, sui rumori istantanei, su clap di mani, voci improvvise, una sirena improvvisa, così, clacson, scusami, insomma, è un pochino più difficile. Però, vediamo come, e poi, ad esempio, abbiamo anche un qualcosa sul consumo energetico, cioè queste cuffie all'interno hanno dei processori che lavorano e quindi l'Active Noise Cancellation riduce la batteria di circa il 20%, no? E sappiamo che molte di queste cuffie, anche queste che ti ho mostrato, ad esempio, prima io, ha un Active Noise Cancellation che però può, come dire, essere attivata oppure no per il risparmio energetico. E non solo per il risparmio energetico, anche per sentire, magari stai prendendo il caffè e la signorina lì ti chiede se lo vuoi macchiato o no e tu non senti perché c'hai le cuffie. Andiamo a vedere un po' il futuro di questa roba qui, no? Perché noi pensiamo che sia soltanto per le nostre cuffie. In realtà, ce l'abbiamo sia in ambito aeronautico, i piloti, gli assistenti usano spesso delle cuffie perché i motori hanno dei rumori molto molto forti, oppure nel settore automotive alcune auto di lusso integrano microfoni in l'abitacono e il sistema audio genera onde inverse in modo che lì dentro si è completamente ovattato, il che non so se è un bene, Immaginatevi di comprarvi una Ferrari e poi vi... tu non senti il rumore, il rombo, no? Della Ferrari. No, peccato, no? Io, non vi preoccupate, ho la mia Fiat, nemmeno quella nuova, quelle cose nuove. Comunque, alcuni centri di ricerca speciali... vabbè, insomma, ho tentato davvero di spiegarvi, ecco, di spiegarvi che cosa succede quando ci mettiamo cuffie con l'Active Noise Cancellation. Che te ne pare? Scriviti qui nei commenti se vuoi ancora video del genere per capire la realtà un po' che ci circonda. Spero davvero che questo approfondimento ti sia piaciuto, lascia un like perché, te lo voglio dire, per fare un video del genere ho impiegato tanto tempo perché prima di tutto vabbè, queste cose un pochino uno le sapeva però ho dovuto produrre i grafici, ho dovuto leggermi ancora alcune cose, approfondire sugli studi futuri, insomma, tanto tempo ci vuole per preparare un video del genere quindi magari se ti è piaciuto lascia un like, iscriviti e perché no, mandalo, non so, al tuo ragazzo, alla tua ragazza, mettilo sui tuoi social e così via. Ciao ciao, grazie infinite, alla prossima.